... Hola youtubers! In questa settimana sono successe un sacco di cose nel vaso di Pandave Ma facciamo ordine Uno, qui troverete la mia chiacchierata con il tubo di Joe Abbiamo parlato un po' di tutto, dal perché YouTube ai progetti futuri Se siete dei curiosoni come me, non perdetevela E se non conoscete il tubo di Joe, dategli un'occhiata Due, qui trovate la mia incursione nel programma settimanale di Roberto Billi Io di Lunedì Stessa cosa, se non lo conoscete, fate un giretto nel canale, che ne vale la pena Tre, qui trovate la mia collaborazione con Nolandese Volante e Lo Zone Channel Per il Banana Contest E non state sempre a pensamale Sono due scenette con un tema specifico La banana Quattro, qui trovate invece un bel remix Lo ha realizzato il DJ di Seer sul tema Il Vaso di Pandave E sinceramente Se volete ascoltare la traccia trovate il link qui sotto Per ora è tutto, trovate tutti i link nella descrizione Vi ricordo la pagina Facebook e il Twitter del Vaso di Pandave E vi do una succulenta anticipazione Dategli un occhio perché lì potete scaricare la sigla Leggere il diario di bordo E potrete trovare tantissime altre sorprese Un salutone dal Vaso di Pandave Il Vaso di Pandave Il Vaso di Pandave Il Vaso di Pandave Il Vaso di Pandave Grazie a tutti.